Eternit, sostanze nocive stoccate da decenni e mai bonificate che hanno avvelenato le falde acquifere, traffico di mezzi pesanti diretti alle due discariche della zona, marcia a piedi in abbandone e degrado post-industriale ovunque. La situazione di Via Penne a Chiettiscalo è pesante e gravissima e di residenti riunitisi in un comitato chiedono interventi urgenti. Si dicono sfiduciati dalle tante promesse della politica sulla bonifica di quella bomba ecologica da 40.000 metri quadrati in vendita all'asta a 0 euro, che aspetta però da decenni la bonifica. Un'ordinanza del comune di Chieti del 2008 è ancora in vigore e vieta l'uso dell'acqua dei pozzi e di coltivare i campi per una contaminazione delle acque sotterranee da composti pericolosi quali solventi clorurati, idrocarburi pesanti e cromo 3, segnalando un rischio di propagazione della contaminazione nella zona corrispondente a un raggio di circa 1.000 metri dal sito. Per bonificare quell'area attualmente di proprietà di una società fallita, la Revi SRL di Roma, servono oltre 3 milioni di euro. Effettivamente è questo che chiediamo, perché la regione dalle ultime notizie è presa l'onere della bonifica della Ex Cap e anche di altre zone altamente inquinate. In più, se si è presa l'onere della bonifica, noi vorremmo che si prenda anche l'onere di comprarlo per destinarlo ai servizi utili. Siccome ci viviamo qua e vogliamo qualcosa di concreto, vogliamo che il sindaco ci dia delle risposte, che la regione ci dia delle risposte per quanto riguarda specialmente la congeria, che è un sito altamente inquinato e che nessuno ne parla. Se ne parla per una settimana, dopodiché viene abbandonato e se riprende il discorso, dopo che succede un'altra cosa più grave. Ci sono poi gli uffici della Ex Sixty, dove campeggia l'avvertimento di pericolo esalazioni e la situazione della zona centrale elettrica, la vedete dalle immagini. C'è poi la questione qualità dell'aria, su cui pesa l'Eternit della Ex Cap, ma soprattutto il traffico pesante. I residenti chiedono un monitoraggio costante da parte dell'Arta.